Ciao Eccoli qua, vediamo come sono, come sono, la pucca, stanno fattendo la pucca in questo momento, ingressa in quarta linea, e lo ingrate davanti, vai Gigio, vai Gigio, vediamoli, ma passano in maniera divina su questi salti, stessa Polari e questi, ci vado anche un'opera udine, addirittura d'arrivo. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.